stream sta iniziando perfetto quattro che ripristiniamo il gioco intanto oggi ho caricato anche poi dopo la live ve lo potete vedere tranquillamente e niente era tutte live non mi potete poi devo vabbè mentre vi dico che la live i messaggi li leggerò un minuto dopo sul mio telefono allora sto laggando un po' eh vabbè scarsa almeno dov'è la live ok si può continuare allora poi quando è in live ma devo spaccare le casse ora mi devo suicidare un attimo che devo prendere la prima live però anche un po' di crema e quindi ve lo dirò la mia prima live cosa mi sono fatto la prima live c'è allora mi devo portare mo ma no è stato gustato ok devo controllare questa cosa sto vando un attimo andando un altro un stupno scusami scusami ah non sto andando bene e non allora se che ne facciamo che devo cambiare un attimo qua il titolo se si può cambiare un attimo si può cambiare allora vediamo si può un po ecco allora allora il mio cane che abbaia va bene facciamo un po perché se noi non ci togliamo più dalle palle allora c'è il mio cane ok 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 può partire nananana 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 continuiamo come avevo fatto con quel video la e allora ok pogo painter e jungle bash vai 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 tini vai vai scelto tini lo so perché è uno dei personaggi invece cresci vedo che sto allagando un po la live ma non tanto quindi va bene ottimo ok no quello è mio quello è mio questo è il mio tesoro sapete però dai ciò puoi fare ti no 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 eh no ok poi io mi ricordo di sto prendendo belle non è per in starti o cose così non si può la mia invece allora 3 non arriverà sì sì ho vinto dai allora taggo un po' la live ma almeno l'importante è divertirci aspettate di camera mia si sentirà quella voce del tavolo non so e me l'ho scordato quando mancava la lampadina perchè mi si era lo va bene bene ma chi cazzo lo conosce la scimmia nel cazzo nessuno conosce sta scimmia epa che verrà lo tain tain tava un gioco tutto suo è un personaggio molto simpatico tipo fanno tain che tain può essere tain che può fare quello che vuole che vuole le lotte di bit con la con altri cattivi di crack è una buona idea potrebbe essere un gioco di ok dai cavolo vaffangu vaffangu queste merda allora mammaia vai vai ma dai in questo dovrò recitare una messa allora ma eh aspettate ciao va bene oh un coglione perchè come si spesa però posso superare vuoi eh volevi ma guarda se l'aspettava oh no ma non non vieni il gioco sopra le scimmie del cazzo sì sì ma dai come ti chiami tu dai prendi prendi mannaia allora allora ma perché 15 vabbè ok no 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 Grazie.